La Lega chiede a Renzi di avvicinare la politica ai cittadini, quindi visto che si cambia la Costituzione si inserisca la possibilità di fare dei referendum sui temi europei. Gli italiani devono poter dire cosa pensano dell'Europa, dell'Euro, dell'ingresso della Turchia e sempre a proposito di referendum chiediamo un referendum propositivo come in Svizzera perché la gente, le associazioni, i comitati possano proporre, votare e decidere. Se non ci saranno queste scelte la Lega non voterà questa brutta riforma. Calderolli, c'è la possibilità di dire di sì ad alcuni emendamenti? Capacità mia della Finocchiaro è di fare una sintesi dei problemi segnalati nel dibattito e attraverso questi emendamenti e dalla disponibilità del Governo ad aprire rispetto ad alcune tematiche. Se ci saranno dei sì rispetto a alcuni punti è chiaro che i 7.000 si sgonfiano. Senatore, pensa che i numeri ci saranno per portare a casa prima dell'estate questo provvedimento? Ma vede, non è un problema di numeri di partenza, bisogna vedere quale sarà il testo finale che andremo a votare. Se il testo finale avrà certe caratteristiche io penso che possa avere una larga maggioranza. Diversamente è già bello che trovi una maggioranza. Si può dire che la Lega è entrata nel patto del Nazareno? Beh, era l'amor del cielo. Ogni volta che sento il patto del Nazareno a me viene l'urticaglia. Grazie a tutti.